8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, pervenuti nel 2010, Roma! A questo momento abbiamo lasciato il 2009, 2.009 ci lascia Roma, pervenuti nell'anno 2010. A questo momento sarei Capitra e Consola, insieme a tutti gli Arcangeli e la voce proprio lì! Roma, prenda un nuovo anno! Il nuovo anno è un anno sociale per tutti quanti! L'anno più bello che possiamo sognare! Coi!! L'anno più板ta! bo! Grazie a tutti.